amici per la pelle sul teleschermo blu benvenuti alla seconda puntata settimanale del tg comics dove andremo a mostrarvi tutto quello che è uscito nel mondo fumetteria ricordiamo anche che siamo connessi con gli amici di mega nerd per cui se volete andare sul sito su facebook eccetera eccetera potete vedere il tg comics anche lì e ringraziamo di nuovo non fa mai male il nostro amico andrea alfano ma anche tutto quanto lo staff perché non è solo lui mega nerd bene comincerei con qualche recupero dal punto di vista editoriale cosmo perché abbiamo la rapina del secolo fuoco e sangue 112 pagine ricche ricche a 5 euro e sono tutte quante a colori andiamo a mostrare l'interno di questa avventura completa e non mi sembra niente niente male vediamo che c'è anche un sottotitolo sottotitolo che ci dice come ho fatto fortuna in francia nel giugno del 1940 vi leggo un po di nomi in francese così tanto per farvi capire che non ci capisco una mazza pierre siniac fabien nuri savie d'orizon e laurent astier questa ve l'ho buttata proprio così recupero perché la data porta 14 dicembre 2017 ma a noi evidentemente era sfuggito nostra colpa però l'importante che siamo riusciti a recuperarlo poi altro recupero questo porta la data 21 dicembre 5 euro e 90 anche in questo caso una storia completa ma 192 pagine shanghai la promessa dell'alba credo per il prezzo sia in bianco e in nero infatti è in bianco e in nero ma ecco l'idea rende molto molto bene della qualità comunque dell'albo che nonostante sia in black and white ha dei bei disegni mariole e tisseron in questo caso bello bello cicciottello interessante anche lui dove arrivarmi anche un dunkirk ma se deve essere perso nei meandri della distribuzione poi facciamo vedere il ritorno di orfani dopo la pausa eccolo qua il settimo numero di sem la mossa della torre ritorna la creatura di recchioni per bonelli con credo l'ultima miniserie se non vado errato tutto a colori 4 euro e 90 in questo caso all'interno troviamo 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 soggetto a sceneggiatura roberto recchioni e michele monteleone disegni federico vicentini luca maresca e fabrizio des dorides che non so mai come si pronunci però beccatevela così ecco qua e la qualità dell'albo non mi sembra aver risentito della pausa anzi 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 veramente forse è salita ancora di più poi una testata che voi sapete benissimo mi sta abbastanza a cuore green valley che fino al quinto numero mi ha soddisfatto abbastanza e siamo al sesto ricordiamo che c'è anche il pack dove potrete comprare tutti insieme i nove numeri per leggervi la storia senza aspettare l'uscita dello spillatino successivamente abbiamo la creatura di landis con ai disegni il nostro camuncoli che ci porta a vedere le avventure dei cavalieri di chelodia la loro disgrazia la loro voglia di rinascita i problemi che ci sono all'interno del gruppo misteriosi maghi che compaiono da un futuro da un passato da un altrove non ben specificato e creature che non ci aspetteremmo in quell'universo ma ecco qua i disegni io mi sento di consigliarvelo perché è veramente piacevole come lettura va via scorre molto bene i disegni camuncoli sono eccellenti e il buon landis sa scrivere mi sapevo di niente poi ho novità fresche fresche della salda press eccolo qua abbiamo il primo volume di extremity artista il titolo una produzione skybound image tea era un artista che aveva una famiglia amorevole e una vita senza dolori ma questo era prima che il feroce clan dei paznina attaccasse i roto ora colei che una volta era un artista non sogna una vita migliore ma la vendetta contro il clan che ha distrutto la sua famiglia consumata dal desiderio di rivalza tea segue il padre lungo una via oscura che non potrà che concludersi nel sangue ma per quanto ancora potrà proseguire su quella strada costellata di cadaveri allora innanzitutto vi dico il prezzo 14,90 euro classico volume con alette alla salda press e questi sono gli spettacolari disegni che sono contenuti all'interno di questo volume gli autori sono daniel warren johnson e mike spicer ci butterò ovviamente un occhio ma non basta ancora salda press finalmente ritorna revival con il volume numero 6 la lealtà dei figli eccolo qua credo anche questo 14,90 euro infatti super standard revival si conferma come una delle serie a fumetti di più pregevole fattura pubblicate di recente da image comics una storia moderna contestualmente rurale e sovrannaturale partorita dalla fertile mente di team silly e illustrata alla perfezione da mike norton questa è la recensione di raffaele caporaso di badcomics.it ce ne sono altre ma è inutile che io mi dilunghi e vi faccio vedere qua magari non questa capoccia che zompa però qualche altra cosa un po' più fattibile ve la mostro eccolo qua e via anche questo volume è andato passiamo alla bau la bau ci porta finalmente il secondo volume di black hammer eccolo qua miglior nuova serie del 2017 ragazzi la fattoria non sarà più la stessa quando un visitatore giunge alla fattoria alla ricerca di black hammer le notizie che porta cambiano tutto antichi ricordi riaffiorano e un nuovo piano di fuga viene orchestrato io mi sento assolutamente di consigliarvi il primo volume stupendo Lemire, Ormston, Rubin e Stuart gli autori presenti all'interno e andiamo a farvi vedere il contenuto di questo pregevolissimo cartonato di mamma bau eccolo qua poi magari in descrizione vi mettiamo anche i link per supportare il canale se voleste recuperare questi lavori il prezzo è 19 euro olè saltiamo di palo in frasca e faccio vedere le cose extra fumetto perché è arrivato finalmente lo starter set di D&D eccolo qua quinta edizione dopo il manuale del giocatore arriva lo starter prezzo 25 euro distribuito da Asmodee qua in Italia e poi rimanendo in tema di G-Walky ecco qua vi faccio vedere la nuova espansione rivali di Ixalan per quanto riguarda Magic il pacchetto e il mazzo eccolo qua gorgone cospiratrice planeswalker e via 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 torniamo ai fumetti facciamo una carrellata sui manga abbiamo per la Star Comics al dritto magari il venticinquesimo numero della New Edition di Fairy Tail che non ha bisogno di presentazioni prezzo 4,30 euro di Iro Mashima nel bel mezzo dell'esame per la promozione a mago di classe S si verifica una serie di imprevisti eeeh misteri della fede cosa succederà mai? Kilo Sass mentre la serie regolare che è giunta al cinquantatresimo numero tra un pochino tra qualche mese giungerà a conclusione come se non vado errato si dovrebbe concludere al prossimo numero Torico sempre Star Comics sempre 4,30 euro dovrebbe essere il penultimo numero di fronte a God Torico viene trafitto da Acacia e una volta che quest'ultimo ha mangiato l'alimento supremo il più letale dei diavoli celato dentro di lui si avvia verso la sua completa rinascita nel frattempo inoltre viene a galla la sconvolgente verità sulla nascita di Torico e di Star June e andiamo a far vedere anche i disegni di questa serie che ci ha tenuto compagnia per svariato e svariato tempo e che un tempo era stata definita come l'erede di Dragon Ball addirittura ma non ha raggiunto minimamente i successi della creatura di Toriyama poi Honey eccolo qua 4,30 euro sempre il prezzo sempre Star Comics e dice la questione sul terribile ex ragazzo di Yashiro è finalmente archiviata e la relazione tra Nao e Eunice procede a gonfie vele i due si erano da tempo promessi un primo appuntamento e ora che il Natale si avvicina decidono di approfittarne per trascorrere insieme anche se il destino sembra remare contro e poi che dire di quella notte la creatura di Amu Meguro ecco qua un po' di disegni all'interno voilà e questo scioggio lo abbiamo fatto vedere attenzione attenzione arriva Fire Punch numero 5 siamo arrivati al numero 7 in Giappone numero 4 che ci ha lasciato una conclusione quasi assurda cioè proprio con dell'incredibile e voglio vedere come va avanti è strano forte è strana forte l'opera di Tatsuki Fujimoto a tratti delirante primo numero mi è piaciuto tantissimo secondo una leggera flessione ma 3-4 direi notevoli eccolo qua volume con sovraccoperta il prezzo 4,90 euro è un uomo che si cela in un corpo di donna dopo che è stato reso pubblico il suo segreto Togata si sfoga ed esterna tutto il dolore che a lungo ha tenuto racchiuso dentro di sé le sue parole colpiscono molto Agni che decide di affrontare il suo destino andando a cercare l'uomo che è stato causa di tutti i suoi mali e andiamo a farvi vedere qualcosa all'interno anche questa è una serie che in fin dei conti io vi straconsiglio perché comunque è qualcosa di diverso come quando vi consiglio Golden Kamui è qualcosa di diverso non è il classico manga un gran manga eccolo qua invece Uchukyodai fratelli nello spazio che se non sbaglio in Giappone è arrivato al numero 32 di Chuyakoyama volume anche questo con sovracoperta per la Star Comics al prezzo di 4,90 euro una terribile tempesta elettromagnetica sta per abbattersi su Muta e compagni ta 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 tan questa pure sarebbe il caso di recuperarla perché non è niente male ha vissuto un momento di boom perché credo ne parlò una volta Dario Moscia in un video e non si faceva nient'altro che vendere fratelli nello spazio poi se Torigo è il penultimo questo è proprio l'ultimo di The Breaker ragazzi si concludono qui le avventure di The Breaker New Ways Shion raggiunge lo stato dello questo è veramente lo scioglilingua alla ganga Yen Won Jin Kyung come andrà a finire? non vado avanti perché rischierei veramente degli strafalcioni incredibili 5,90 euro con sovracoperta eccolo qua per quest'opera che ha venduto notevolmente bene adesso l'arretrato si è un po' fermato pagina nera un po' fermato ma ha avuto i suoi grandi momenti di gloria devo dire che molti molti amici che vengono qui alla Forbidden Planet me l'hanno straconsigliato poi un'opera di Ryoji Minagawa grandissimo e bravissimo autore ricorderete Spriggan ricorderete D-Live la creatura dopo Peacemaker se non sbaglio è Adamas ma ce n'è una nuova che è uscita nel 2017 ancora non pubblicata da nessuno quindi in realtà questa è la terz'ultima opera di Minagawa il prezzo 5,50 euro anche in questo caso abbiamo la sovracoperta ragazzuoli numero 14 e sole più forti sono sopravvissuti e il God entra nel suo secondo girone divenendo sempre più violento a un certo punto però Cole Emerson fa la sua comparsa nell'arena con una nuova inaspettata proposta le sue parole colme di incrollabile fiducia in se stesso sono il frutto dei giorni passati fraspri combattimenti che l'hanno portato alla posizione in cui si trova ora e andiamo a vederci qualcosa dei disegni di Minagawa che se non ricordo male ha fatto pure ARMS Minagawa mi pare di sì mi pare di sì e la mia memoria ormai è diventata proprio fallace poi flash di Grant Morrison attenzione passiamo alla R. Bull Lion 17,95 euro per questo cartonato dal titolo Flash Nero Morrison e Miller oltre la velocità della luce continua la riproposizione in volume della Run di Flash firmata da Grant Morrison e Mark Miller all'epoca giovani scrittori in rapidissima scesa nel mondo del fumetto in questo secondo e ultimo capitolo Flash dovrà difendere la terra da una minaccia cosmica chiamata Crackle prima di dover affrontare un altro Flash Nero in più le origini segrete di Flash attenzione e andiamoci a vedere un pochino dell'interno di questo cartonato e voilà facciamo un'altra va sbeda bene con una cover e un Flash un po' ingazzoso direi un pochino ingazzoso poi ristampa e versione cartonata sarà la 1500esima edizione di Batman anno 1 ma non se ne ha mai abbastanza per questo capolavoro di Miller e Mazzucchelli chi non l'avesse mai letto si sbrighi a recuperarlo per favore 14,95 euro che storia ragazzi che storia bomba vera bellissimo bellissimo non ci sono altre parole non ci sono altre parole recuperiamo delle storie molto interessanti perché sempre il Reboon Lion ci presenta i Wildcats di Alan Moore ragazzi 20,50 euro i Wildcats sono morti lunga vita i Wildcats i Wildcats si sono separati su Kera Emp e buona parte del team esploreranno le meraviglie su Kera sì Emp e buona parte del team esploreranno le meraviglie e i segreti del loro ancestrale mondo d'origine mentre sulla terra Savant e Majestic proveranno a ricostruire la squadra partendo dai pezzi che rimangono loro a disposizione e andiamo a vedere un po' dei disegni che qui troviamo tra gli altri Travis Charest che è una goduria per gli occhi ragazzi ma non solo lui perché troviamo anche Kevin McGuire Dave Johnson e Ryan Benjamin bel volumozzo primo volumozzo tra le altre cose poi ci sono un paio di recuperi di Planeta di Agostini abbiamo le strade di Gotham eccolo qui il prezzo ovviamente eccolo qua trovato 11 euro e 95 perché spesso non c'era storia di Poldini e Dustin Guillen ai disegni andiamoci a vedere qualche cosa brossuratino che sguiscia proprio come un'anguilla proprio molto molto morbido si fa fatica a reggerlo poi altro recupero Planeta Constantine e il Blazer Papa Midnight 9 euro e 95 guarda al passato per ricostruire il futuro abbiamo Matt Johnson Tony Hikins e Dan Green che vi andiamo a mostrare velocissimissimamente per poi passare ai chiacchieratissimi e criticatissimi volumi cartonati deluxe del revert che finalmente escono c'è stata la polemica perché sono usciti prima i brossurati questi non erano stati annunciati se non diverso tempo dopo ma che ve frega se non li volete non li comprate giusto almeno io la penso così però magari c'è pure chi pensando che non uscissero mai i cartonati e da tutti i cartonati in realtà si è accattato i brossurati e ora si li da in faccia insomma forse un po' la verità sta nel mezzo l'ascesa di gotham 20 euro e 95 io sono gotham e qui abbiamo appunto la ristampa dei numeri spillati dei primi revert dovrebbero essere i primi 6 prezzo 20 euro e 95 dovrei averlo detto abbiamo altresì la versione di superman 20 euro e 95 il titolo è il figlio di superman 20 euro e 95 con i numeri dall'1 al 6 e revert numero 1 tira ora un mazzo di pagina che ho beccato sbada bam alla grande devo dire che sono fatti bene sono proprio belli massicci e solidi ed ecco qua quello della justice league le macchine estinzione con i justice league dall'1 al 5 e revert 1 anche qui la lega che il mondo conosceva non esiste più sempre 20 e 95 poi abbiamo un altro cartonatino manco troppo cartonatino 20 euro e 50 per il freccia verde di lemire e sorrentino che comprende green arrow dal 17 al 24 più il 23 punto 1 la macchina che uccide e a voi i disegni di sorrentino niente niente male ne parlavamo proprio con il mio amico Werther dell'Ethera e voilà non vi ho fatto vedere i disegni anche da justice league perché insomma vi dovreste riconoscere abbastanza bene poi abbiamo per la star comics bloodshot reborn numero 5 bloodshot usa prezzo 8 euro e 90 in bloodshot with rust dove abbiamo anche qui jeff lemire poi doug breathwhite e brian reber e andiamo a vederci un po' dei disegni per la valiant in attesa che esca qualche film oltreoceano sicuramente potrebbero far esplodere l'universo valiant universo che contiene molte belle cose devo dire ninja numero 4 assedio king's castle questa volta 9 euro e 90 ecco qua l'ultima resistenza e troviamo matt kint diego bernard e ulisses arreola una miscellana di nomi che ogni volta non sciogli lingua ed ecco anche questo volumozzo valiant è andato pooh siamo quasi alla fine mostriamo una creatura magic press abe sapien numero 5 eccolo qua luoghi sagri prezzo 14 euro per magic press tormentato dalle morti a cui ha assistito e che ha provocato abe ritorna sul luogo in cui ha avuto inizio la sua più recente trasformazione durante il cammino si imbatte in un'anima dannata dopo l'altra e tutte sembrano convinte che abe sia la risposta all'attuale crisi globale se non la causa abbiamo mike mignola scott elli sebastian fiumara max fiumara e dave stewart e andiamoci a vedere questi prodotti che contengono sempre dei bei gioielli eh sì sia a livello di storie che di disegni poi abbiamo le storiche biografie con vercingetorige prezzo 8 euro e 99 eccolo qua vercingetorige primo eroe mitico della storia di francia era un arverno che aveva imparato la disciplina militare nel potente esercito romano tornato nel suo villaggio e nonostante le reticenze dei nobili sfruttò la propria esperienza ed eloquenza per riunire le tribù galliche e respingere l'invasore romano fiero coraggioso disciplinato e scaltro vercingetorige fu per le celebri legioni uno degli avversari più temibili tuttavia si trovò ad affrontare uno stratega ancora più grande di lui Caio Giulio Cesare ebbe 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 Adam Convard Vignot e Bourdain bel volume anche questo una bella linea questa delle biografie complimenti a mondatori poi un po' di spillatini abbiamo Suicide Squad e Harley Queen numero 20 3,95 euro all'interno abbiamo Connor Palmiotti Dini Williams Tims Lissner Blevins e Daniel con la bellezza di 1,2,3,4 5 storie che saranno un po' di storielline pure brevi perché è impossibile che siano contenute tutte qua dentro ci sarà qualche fill-in qualche riempitivo o giù di lì poi abbiamo anche quello della Justice League America che arriva al numero 9 ragazzuoli prezzo 3,95 euro 3,95 abbiamo Orlando Percy Campbell Watanabe Hester Famm e all'interno Giovani Titani qua dietro vedete pure tutto quanto il listato di metal che arriverà a breve con tre storie all'interno e a voi un po' di disegni e voilà ultimo spillato che vede Lanterna Verde numero 23 prezzo 3 euro tondi 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 sarebbe il numero 101 della collana due storie autori venditi Humphries Van Schiever Clicquay con all'interno le lanterne verdi e vediamoci un po' di disegni e voilà e chiudiamo con un brossurato il secondo volume di Batman Eternal eccolo qua 19,95 euro che raccoglie i numeri dall'11 al 20 di questa serie che era uscita settimanalmente negli Stati Uniti scritta da Scott Snyder e James Dignan IV eccolo qua ai disegni Jason Fabok Dustin Guillen Emanuele Simeoni e tanti altri andiamoci a spizzare qualche cosina che non guasta mai e voilà per quest'oggi abbiamo detto tutto quanto vi auguriamo un buon weekend ma ricordiamo altresì di iscrivervi al canale Forbidden Planet Roma mettere una bella spuntina sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e un bel mi piace per tenere su il video potete condividerlo fate come più vi pare e piace allo stesso modo potete trovarlo anche su Mega Nerd ve lo ricordiamo il Mega Portale anche lui su tutto quello che riguarda il mondo della nerditudine ma poi potete anche iscrivervi alla pagina del TG Comics perché lì facciamo art sharing condividiamo notizie e chi più ne ha più ne metta c'è anche la pagina del Forbidden Planet Roma sempre su Facebook e potete venirci a trovare nella Bat Caverna come al piano di sopra se non mi trovate di sopra potete scendere di sotto tanto io sono sempre nel Mega Magazzino a fare i super riordini di Okuto e quindi che dirvi le battaglie sono tante e viene avanti un weekend gigante e che il Cipri Merlo vegli sempre su di voi ciao